Settimana 12. Qualsiasi scopo nella vita si può felicemente raggiungere attraverso la comprensione del potere creativo del pensiero. È un potere che possediamo tutti. Un essere umano è tale perché pensa. Il suo potere di pensiero non ha limiti. Ecco perché il suo potere creativo è infinito. Sai che il pensiero ti sta costruendo quella cosa a cui pensi e la avvicina a te. Però hai difficoltà a cancellare la paura e le ansie. Quelle forze cioè che ti allontanano dal successo, che ti fanno fare un passo avanti e due indietro. L'unica soluzione per non regredire è persistere e andare avanti. Il segreto è essere vigili. Ci sono tre fasi molto importanti da attraversare. La prima cosa è acquisire consapevolezza del potere del tuo pensiero. La seconda è tirare fuori il coraggio. La terza avere fede per agire. Queste tre fasi sono sufficienti per ottenere un'impresa fiorente, una casa, degli amici e un ambiente ideali. Non esistono limiti. Nella sua onnipotenza il pensiero sa attingere alla banca infinita della sostanza primaria per darti ciò che desideri. Hai a disposizione risorse infinite. A patto però che il tuo ideale sia ben chiaro e definito. Cambiare dal giorno alla notte il proprio ideale significa sprecare le energie e restare a mani vuote. Il solo risultato sarebbe un cumulo disordinato e inutile di materiali sprecati. Purtroppo è quello che fa la maggior parte della gente. La causa è palese. Se uno scultore inizia a lavorare il suo blocco di marmo cambiando idea ogni quarto d'ora, che risultati vuoi che ottenga? E perché tu dovresti attenderti un risultato diverso con la più malleabile di tutte le sostanze, la sola vera sostanza? L'indecisione e i pensieri sbagliati producono perdita di beni materiali. Gettano alle ortiche una vita indipendente fatta di anni di lavoro e fatica. Dunque spesso si capisce che il denaro e i beni non rappresentano per nulla una forma di indipendenza. Semmai la sola vera indipendenza è la conoscenza pratica del potere creativo del pensiero. Non puoi applicare questo metodo pratico se non hai ancora compreso che il potere sta nella tua capacità di adattarti ai principi divini. Non puoi certo cambiare l'infinito, però sei in grado di comprendere le leggi della natura. Possedere questa consapevolezza equivale a essere coscienti delle proprie capacità nell'adeguare il tuo pensiero alla mente universale. Saper cooperare con questa onnipotenza definirai il livello di riuscita nelle tue imprese. Il potere del pensiero comporta anche delle trappole in cui è bene non cadere. La preoccupazione, i timori e in generale tutti i pensieri negativi danno cattivi frutti. Chi è vittima di simili pensieri è destinato a non raccogliere altro. Esistono poi i cercatori di fenomeni, che corrono dietro alle più astruse correnti del mondo psichico. Non hanno ancora capito che la loro disfatta dipende dalle forme pensiero passive, negative e ottuse. La telepatia ha avuto molto seguito, ma è una pratica nociva perché presuppone che il ricevente permanga in uno stato mentale negativo. Quando si invia un pensiero, nell'interlocutore avviene sempre l'inversione del principio coinvolto. L'ipnosi è dannosa per molti versi, sia per chi la pratica, sia per chi vi si sottopone. Chi conosce a fondo le leggi della sfera mentale non può pretendere di dominare la volontà di un'altra persona. Così facendola si spoglia inevitabilmente del suo potere. Queste pratiche possono anche affascinare, ma nasconde un fascino incredibilmente più profondo la vera comprensione del potere interiore. Perché è una forza che aumenta con la pratica. È permanente e duratura. Si tratta di un potere che non si limita a correggere gli errori del passato, ma che previene i pericoli futuri. Una forza creativa autentica con cui costruire nuovi scenari della nostra vita. La legge dice che il pensiero si mette in relazione con il suo oggetto e genera nel mondo materiale il corrispondente dell'immagine impressa nella sfera mentale. È chiaro quindi che ogni pensiero deve contenere la verità, altrimenti la legge della crescita non può manifestare il bene. Perché solo il bene può garantire il potere durevole. La legge di attrazione è il principio che dona al pensiero quella forza capace di collegarsi al suo oggetto. In fondo, la legge di attrazione è solo uno dei tanti nomi dell'amore, principio eterno e indispensabile per ogni religione, filosofia e scienza. Non si scappa alla legge dell'amore. Amore è percepire ciò che dona vitalità al pensiero. Percepire è desiderare e il desiderio è amore. Quando il pensiero è ricco d'amore, niente lo può battere. Queste parole, se comprendi il potenziale del pensiero, ti appariranno ancora più chiare. La mente universale è sì intelligenza, ma non solo. È anche quella forza attrattiva che fa interagire gli elettroni fra loro, grazie alla legge di attrazione. Anche gli atomi si attraggono tramite la stessa legge e così accade alle molecole. La legge dell'amore è insomma una forza creativa e si può trovare in ogni creatura dell'universo, in tutto ciò che l'immaginazione è capace di concepire. Il funzionamento di questa legge spinge da sempre l'uomo a credere in un essere impersonale che risponde alle preghiere e ai desideri, che manipola gli eventi per soddisfare le sue richieste. La legge di attrazione nasce dalla combinazione di amore e pensiero. È irresistibile vedere come tutte le leggi naturali, quella gravitazionale o quella elettrica, funzionino come un meccanismo a orologeria. Quando si fulmina una lampadina, non perdiamo fiducia nelle leggi dell'elettricità, così come non dobbiamo credere che, se una persona senza esperienza usa questa legge in maniera imperfetta, la legge stessa sia fallimentare. Piuttosto, la logica conclusione sarebbe che gli uomini dovrebbero conoscerla meglio. È come per la matematica. Per comprendere le regole è essenziale un minimo sforzo. Ogni cosa è stata creata nella sfera mentale. Solo più tardi si traduce in quella materiale. Con il semplice atto di concentrare le nostre forze sul presente, noi stiamo già creando gli eventi che ci accadranno in futuro. Governare il proprio desiderio, educarlo, è un mezzo di straordinaria potenza per mettere in moto la legge di attrazione. L'uomo ha necessità di creare gli strumenti per mezzo dei quali acquisire il potere di pensare. La mente non ha la capacità di capire un concetto totalmente nuovo se le sue cellule non sono preparate a riceverlo. Ecco perché è così difficile fare nostra un'idea del tutto nuova. Ci lascia increduli. All'inizio solitamente siamo tentati di diffidarne. Se non hai ancora familiarità con l'onnipotenza della legge di attrazione, non temere. È una cosa più che normale. È naturale che tu non abbia confidenza con il metodo scientifico che innesca questa legge o con lo sterminato ventaglio di possibilità che può offrirti. Però comincia al più presto a creare, tramite la concentrazione, le cellule cerebrali necessarie per comprendere tutte queste cose. L'intenzione comanda la concentrazione. Dalla quiete si ottiene il potere. Grazie alla concentrazione puoi realizzare pensieri intelligenti, un linguaggio forbito e tante altre cose altrimenti impensabili. Se vuoi venire a contatto con il potere onnipotente del subconscio, dove nasce il potere del pensiero, allora devi cercare il silenzio. Se aspiri alla saggezza o a qualunque altro successo, devi guardare dentro di te. È una sorta di disvelamento. Una persona frettolosa può credere che il silenzio necessario a questo processo si ottenga in un attimo, ma è necessario il silenzio assoluto per creare il contatto con la divinità dentro di sé. È solo in questo modo che si viene a conoscenza della legge immutabile, attraverso la pratica costante e con la concentrazione adatta. Eccoci all'esercizio della settimana. Vai nella solita stanza e siediti sulla solita sedia. Mi lascia i muscoli. Rilassati mentalmente e fisicamente. Non ti sforzare. Fai attenzione che i nervi non siano tesi. Mettiti a tuo agio. Adesso realizza la tua unione con l'onnipotenza. Entra in contatto con il potere. Giungi alla profonda comprensione che tu, pensando, stai agendo sulla mente universale. Renditi conto che la mente universale soddisfera qualsiasi tua richiesta. Perché hai le stesse capacità di qualsiasi altra persona del passato come del futuro. Poiché siamo tutti espressione dell'uno. Tutti sono parti della totalità. Non esistono differenze di genere né di qualità. Soltanto di grado. Il pensiero è in grado di concepire tutto ciò a cui si può dare un'espressione. Chi lo ha enunciato per primo non è che il suggeritore. Ma poi appare anche il vero realizzatore. T. Wilson